Commento dal Vangelo secondo Matteo 25, 1-13. Questa è una parabola che ci richiama la necessità dell'adesione al Vangelo per ottenere la vita eterna. È sicuramente una parabola del regno e corrisponde a quella precedente del Vangelo di Matteo, cioè bisogna attendere la venuta di Cristo con vigilanza attiva, operosa, perché poi non ne conosciamo nel giorno e nell'ora, cioè ecco l'adesione al Vangelo. È molto interessante perché abbiamo le dieci vergini che hanno le lampade e hanno l'olio. Ci sono le dieci vergini che hanno soltanto le lampade ma si sono dimenticate di prendersi l'olio. Questa è una storia molto concreta che può accadere per davvero nella nostra quotidianità, cioè noi possiamo ricordarci, per dirla nell'ecclesiale, di andare in chiesa, per esempio, ma poi ci dimentichiamo. Altri passaggi importanti, quello di perdonare il nostro cugino che ci ha fatto arrabbiare, quello di andare incontro a quella persona che è nella fatica e in ospedale da solo, quella persona che ha bisogno di qualche soldo in prestito anche, oppure quel povero che avrebbe bisogno magari di trovare un lavoro, noi potremmo pensare di contattare qualche amico imprenditore affinché lo assuma. Ecco, tante sfumature che sono un po' nella vita di tutti. Come possiamo fare della carità ma possiamo dimenticarci, per esempio, di rendere lode a Dio con la nostra vita. Ed ecco che il Vangelo, che veramente pervade la quotidianità della nostra vita, tutti gli aspetti della vita, non si può dire io vedo il Vangelo solo in quell'angolino lì, io solo in quell'angolino lì, perché il rischio poi di farci una chiesa nostra. Se dobbiamo aderire in maniera concreta al Vangelo, dobbiamo guardarlo un pochettino in tutta la sua complessità. Quindi dobbiamo ricordarci sia di prendere le lampade, sia di metterci l'olio, sia di illuminare ciò che è importante, sia di condividere la nostra luce con chi non ne ha e così via. E se continueremo, diciamo, con questo tentativo di far del bene con la nostra vita, sicuramente, ecco, lo sposerà, lo sposo ci accoglierà e ci dirà io vi conosco, ecco, venite alle nozze. Buon cammino!